Io sono Cagliardi Vincenzo e sono nato al Casale Veggia, a Saldriano di Lugani, vicino Palazzo Venezia. Io voglio raccontare questo fatto che mi è successo 50 anni fa e passi. All'epoca noi facciamo un ballo, si aspettavano le feste terribili, dicevamo noi, no? Che è natale, capo d'anno, feste, feste che ricordavamo. Emo a ballare sempre via Porticelle e a Fontana Veggia, là c'era un sacco di ragazze. Noi da qua sopra a Casale Veggia venivamo a basso, come io e come tanti ragazzi. Una volta per ballare abbiamo organizzato la festa del carneval, abbiamo organizzato che abbiamo fatto la sposa. C'era un amico o amico che si era sposato da poco. Io avevo preso la sposa della sorella e mi faceva fare a me. Mi andava pure bene l'ambito, un po' strettivo, però mi andava bene. Io portavo sempre i capelli corti, però non lo potevano già all'epoca. Io stavo prendendo un macchino di stopper e poi mettendo in gatto. Poi mangiostando un po' cloro, poi anche salire, tutto ha quel sapone. Non c'era tutto, rossetto, omretto e cose varie. E non dimentico che mi truccava. Mi andava a prendere un truccolore, un po' di sbalto. L'ho buttato nell'arbre. Non dimentico che c'era passata tanto. Io ho trovato un falignano. Facendo per qua benzina, che può farlo lavare, però non se lo va. Sì, io ho trovato un falignano, che vuoi sapere che può pulire, ma anche qualcosa. E mi mi resta tutta la promessa, che mi resta. E poi che ci passava tanto, però mi fa sottraire un po' un po' e che pensava che ci stava che non cazò. Però non fai io, non ho scopo, perché... Grazie a tutti.